Pagina sportiva ben trovati. Alessio Stamilla, il nuovo acquisto del Perugia, il secondo acquisto di questo mercato invernale. L'operazione è stata portata a termine da Marco Bignone e anche da Fabrizio Ferrigno. Il giocatore sta correndo verso Firenze in tempo utile per depositare il contratto e vedere se c'è la possibilità di utilizzarlo sin da domenica prossima quando il Perugia sarà impegnato nella delicata trasferta di Benevento. Dunque un giocatore importante, un altro rinforzo, due giocatori, era stata la promessa del presidente Covarelli che aveva detto ai tifosi di voler intervenire subito per la ripresa del campionato. E così è stato. Alessio Stamilla è un esterno, ha giocato quest'anno poco, 4 presenze, 125 minuti in Serie B, 26 anni da compiere il 16 febbraio. Ma è un giocatore che nonostante la giovane età ha già una grande esperienza. 227 presenze da professionista con 31 gol, 79 presenze in Serie B, 48 in C1 con 10 reti, 75 in C2 con 9 reti. Ha giocato con Sarremese e soprattutto San Giovannese, squadra in cui ha conosciuto Maurizio Sarri che è un grande estimatore di Stamilla. Quattro stagioni a San Giovanni Valdarno, tre in C2, una in C1. A San Giovanni Valdarno con Sarri 31 presenze e 6 gol in C2 nell'anno della promozione ai play-off in C1. E quindi l'anno successivo la prima in C1, 35 presenze e 7 reti. Per il passaggio appunto di questo giocatore il Perugia ha messo a segno dunque questo importante colpo. L'anno scorso tra l'altro Stamilla ha rincontrato Sarri a Verona, esperienza non troppo felice per il tecnico toscano, ma anche in quell'occasione 13 presenze e 3 reti. Basta capire qual è la media con Sarri per capire appunto qual è l'impiego e l'importanza di Stamilla per questo allenatore. 79 le partite giocate con il tecnico toscano e 16 i gol. È un attaccante esterno adattissimo al 4-2-3-1, 171 centimetri per 64 chilogrammi. Un giocatore che rappresenta una validissima alternativa sulla fascia destra per De Giorgio e dunque un giocatore che potrà far comodo sin da subito se la società riuscirà a tesserarlo. Ma Stamilla sta correndo proprio verso Firenze e se non ci saranno complicazioni dell'ultima ora riuscirà a depositare il contratto ad essere naturalmente disponibile per domenica a Benevento. La società darà l'ufficialità dell'operazione solamente nella giornata di domani. Ma l'operazione può dirsi conclusa, l'unico inghippo semmai è il possibile impiego di Stamilla dalla prossima partita con il Benevento. In caso contrario Stamilla, ma non dovrebbero esserci complicazioni, esordirà domenica prossima. Nel caso contrario sarà tutto rimandato di una settimana quando il Perugia ospiterà all'Arenato Curi la Cavese. Queste le notizie di giornata per quanto riguarda il calcio mercato. Perugia che ha anche ceduto via Sampdori il centrocampista Cuciniello alla Paganese. Perugia che sta lavorando anche sull'attaccante, ma qui il discorso è un pochino più lungo perché Marco Carparelli sul quale era stato trovato un accordo con il Grosseto ha chiesto un anno di contratto in più. Tra l'altro Carparelli sarebbe dovuto venire a Perugia in prestito fino a giugno perché ha un contratto fino al 2010 con il Grosseto. Carparelli ha rifiutato il prestito, ha chiesto anzi un anno di contratto in più cioè scadenza 2011 e per il momento la trattativa è saltata. Ma ripetiamo, Covarelli aveva promesso acquisti. A qui si sono arrivati il primo Raimondi, il secondo Stamilla che dovrebbe sordire, almeno questa la speranza, dovrebbe essere disponibile per la partita di domenica prossima in trasferta contro il Benevento. anche il Foligno e la Terranasi.